Ti sei sicuramente accorto che da un po' di tempo a questa parte nessuno vede i tuoi post su Facebook. In questa raccolta di guido parliamo di questo problema e vediamo come affrontarlo. Come fare cioè una campagna di advertising per continuare a mantenere alta l'interazione sulla tua pagina Facebook e a parlare con i tuoi fan, ammesso che ti serva. È una raccolta molto pratica, sarà come sedersi di fianco insieme alla scrivania e creare insieme una campagna di advertising. Come sempre anche in questa raccolta ti spieghiamo le cose nel modo più semplice possibile in maniera che siano applicabili da subito. C'è pochissima teoria e moltissima pratica. Per guardare la raccolta è sufficiente abbonarsi a guido con un abbonamento mensile oppure annuale. Ci vediamo lì sopra, a presto!